ciao a tutti e benvenuti nel video di oggi andremo insieme a vedere ferro per ferro come realizzare questo bellissimo motivo traforato ai ferri che da entrambi i lati si presentano lo stesso identico modo quindi non ha un lato diciamo diritto e un lato rovescio quindi è un punto che è facilmente adattabile per i vari progetti come le sciarpe cardigan ponci le magliette poi vista la stagione che arriva diciamo che non potevamo farcelo mancare nostro motivo è un multiplo di due maglie e di quattro ferri per il nostro campioncino noi andiamo avviare 24 maglie di cui 20 maglie saranno dedicate all'illustrazione e creazione proprio appunto della nostra retina due mali sono le mali di simmetria e due mali sono le mali di vivagno per l'avvio andiamo avviare le mali con avvio alla nordica il video tutorial dettagliato dell'avvio alla nordica lo trovate nella descrizione oppure sopra il video consigliati ecco qui abbiamo avviato le nostre 24 mali e partiamo subito con il nostro primo ferro del motivo la nostra maglia di vivagno noi la andiamo spostare senza lavorare la seconda maglia che troviamo sul nostro primo ferro e penultima maglia del primo ferro sono le mali di simmetria che vanno lavorate a diritto sul primo ferro del motivo quindi la male di vivagno abbiamo spostato la male di simmetria la viviamo a diritto e poi partiamo con la lavorazione del motivo quindi andiamo a fare un gettato e su successivo due maglie li uniamo e lavoriamo insieme facendo una diminuzione facendo così noi creiamo i nostri forelini quindi tutto questo ferro va lavorato un gettato due maglie insieme un gettato due maglie insieme e questo è il primo ferro del motivo ecco che stiamo arrivando alla fine del nostro primo quindi facciamo ultimo motivo il gettato due maglie insieme e ci ritroviamo che abbiamo la nostra maglia di simmetria del primo ferro che noi andiamo lavorare a diritto come abbiamo lavorato la prima all'inizio e la maglia di vivagno lavoriamo a rovescio il nostro primo ferro è fatto ora il secondo ferro che il ferro di ritorno come anche il ferro quarto andranno lavorate sempre a diritto tutte le maglie come si presentano sia quelle diciamo che si presentano a rovescio sia quelle che si presentano come il gettato noi le andiamo lavorare a diritto quindi il ferro di ritorno il secondo ferro va lavorato a diritto ed ecco qui abbiamo fatto anche il nostro secondo ferro andiamo a vedere il terzo ferro del motivo la nostra maglia di vivagno noi la spostiamo e partiamo in questo terzo ferro subito con la lavorazione del motivo quindi gettato una diminuzione ecco il primo motivo fatto gettato una diminuzione quindi come avete visto nel ferro numero 3 abbiamo tra virgolette saltato non abbiamo fatto la maglia di simmetria perché il terzo ferro va direttamente lavorato partendo dal gettato e con due maglie insieme quindi la maglia di simmetria va lavorato sul primo ferro del motivo ecco anche la fine del ferro concludiamo nello stesso modo gettato e una diminuzione il ferro di ritorno il ferro numero 4 noi andiamo lavorare tutte le maglie a diritto anche i gettati vanno lavorate a diritto nello stesso identico modo come il ferro numero 2 ed ecco qui una volta che abbiamo finito il quarto ferro possiamo dire che abbiamo appunto concluso il primo blocco abbiamo appunto visto come realizzare il nostro motivo quindi ora noi dobbiamo semplicemente andare portare avanti la lavorazione alternanza lavorazione di questi quattro feri per la lunghezza desiderata del nostro progetto primo ferro in cui andiamo a lavorare la maglia di simmetria secondo ferro in cui andiamo a fare tutte le maglie a diritto lo terzo ferro in cui partiamo direttamente dal motivo senza la simmetria è il quarto ferro in cui lavoriamo tutte le maglie a diritto e così andiamo a alternare per tutta la lunghezza quindi unica differenza tra il ferro 1 e 3 do la lavorazione e la maglia di simmetria ed ecco qui abbiamo visto appunto come realizzare questo bellissimo motivo speriamo che siamo riusciti a spiegarvi tutti i passaggi che tutto sia chiaro ovviamente se ci sono le domande ponetele qui sotto che cercheremo di rispondere a tutti se non siete ancora iscritti al nostro canale iscrivetevi per non perdere tantissime altre novità in arrivo grazie a tutti per aver seguito questo tutorial e al prossimo video